4 settembre 1965. Muore Albert Schweitzer, medico, missionario, teologo, organista tedesco. Nato a Kaisersberg il 14 gennaio 1875, si trasferisce nel 1913 nel paesino di Lambarenne, nell'Africa equatoriale francese. Insieme alla moglie Hélène Breslau, infermiera, dedica la sua intera esistenza alla cura dei malati, vincendo la loro paura e diffidenza e diventando per gli indigeni un fondamentale punto di riferimento. A Lambarenne fonda un ospedale capace di accogliere centinaia di ammalati. Nel 1953 gli viene conferito i Nobel per la pace.